Carbonella pesa. Griglia pure. E questo cos'è? Questa qua è la diavolina. Diavolina, posto. Quest'anno per Pasqua, essendo solamente io ed Anna qui a Madeira, abbiamo deciso di fare una grigliatina. Non avendo nel giardino o nel terrazzo, abbiamo deciso di farla sul balcone. Siamo andati l'altro giorno ad acquistare questa griglia qui da 14 euro, bellissima, è stra piccolina e funziona da dio. Anna è da circa due mesetti che sta cercando di non mangiare più la carne. Questi qua sono i suoi hamburgerini vegani, che a me fa impressione come sembra che esca il sangue dagli hamburger, come quelli veri. Questa è la tavola imbandita, ovviamente abbiamo esagerato come sempre perché abbiamo gli occhi più grossi allo stomaco. Sì, il tavolino è quello del salotto, l'abbiamo rubato.